Ci stiamo allenando tanto, ma oggi non abbiamo fatto partire la testa, accorciamo tardi, poi se accorci tardi dai tempo e spasi all'avversario di giocare, è normale che poi vai in difficoltà con qualsiasi squadra, questa è una squadra organizzata, frizzante, poi invece atteggiamento del secondo tempo molto bene, al di là che loro hanno cambiato, abbiamo cambiato tanto anche noi, però mi è piaciuto il correre sempre in avanti, mettisi a posto e correre in avanti, infatti il secondo tempo si va a vedere, abbiamo corso molto meno, perché eravamo sui 10-15 metri e ho visto una squadra veramente organizzata che corre in avanti, penso che non devo presentarlo io, si vede subito dall'occhio come entra in campo, cambia subito l'atteggiamento, anzi forse già nello spogliatoio, quindi non devo insegnargli niente, sicuramente deve entrare nei nostri meccanismi di gioco, ma è talmente abituato a giocare, visto che ha fatto tante partite, è intelligente e quindi saprà muoversi, io guardo che cominciamo a vedere alternative, c'è competizione, se c'è competizione vuol dire che possiamo fare bene, altrimenti siamo costretti a far giocare sempre gli stessi giocatori, anche quando non stanno bene, ma dall'esempio di oggi qualcuno non era in palla, abbiamo cercato di cambiare e questo ci ha dato aggiovamento e dobbiamo insistere su questa strada.